allora buongiorno ragazzi i pistoni sono dentro dentro con i segmenti nuovi ho cambiato le bronzine le bronzine di biello una volta che c'ero che c'ero cambiato le bronzine anche se erano erano buone ho fatto il serraggio con la chiavina dinamometrica adesso metto la coppa e chiudo sotto il tempo è buono si spera per fine settimana di mi consegna la testa e chiudo così vediamo come va alla prossima allora quei lavori proseguono sembra e purtroppo la testa questo fine settimana non è pronta ho montato la pompa dell'acqua i cuscinetti di indicigni nuova i paraoli e devo sistemare questo tubo qua dietro qua mi ha montato la turbina e cerchiamo di andare avanti facendo un buon lavoro la turbina sta a terra qua io ho questo perno qua che devo sostituire gli do un'occhiata una pulita e si cerca di completare alla prossima allora buongiorno cari amici la testata è arrivata come si come come si vede la testata è arrivata abbiamo fatto un buon lavoro abbiamo cambiato le guide queste sono le guide le valvole quella spezzata guardate un po cosa ha combinato è diventato una s cambiate tutte le valvole i bicchieri perché si crepano qua sotto qua tutto crepato è crepato come si vede ed è marcato i bulloni nuovi ho revisionato anche l'alternatore e dai mi do da fare montiamo e speriamo di finire quanto prima a dopo allora proviamo un attimo a mettere in moto dai l'ho spurgato un attimo devo correre al lavoro voglio almeno sentirlo girare un attimo adesso si prova un attimo musica maestro le spie sono tutte spente il mezzo in temperatura è tutto ok ragazzi appena andati in temperatura chiudo e siamo a posto e non dimenticate la cinghia ciao ciao